musica 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 occupato? da poco non ce la facciamo più a mezz'ora state in fila? eh si capisce che facciamo aspettiamo l'opera seppi mamma mia signore signore mi piacere è mezz'ora che stiamo aspettando io sono venuto con il pss chi lo sape se mi è già fatto già sotto come state a fare ma ha fatto le gole a tutti e due capito un barbino bello bello hai divagato? si bravo bravo ma che succede? che succede? mamma mia è un barbino c'è tutto il barbino veramente veramente ma si è chiesto che noi non sappiamo chi siamo figli come ho chiesto figli a me no 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 che hai detto questo hai detto un barbino che ha portato la cugna la cugna così dirgli ma noi che ci hai portato eh guaiù ma mi ha trovato troppe cose ho passato troppo tempo Io non mi ricordo più, io mi ricordo solo veramente, che ero un uccello grande. La mattina siamo riuniti qui per fare un'intervista al volo. Così signora, avete detto un'intervista al volo? Sì, ma che sta facendo? Un'intervista al volo. Mannaggia questo, mannaggia. Pronto? Pronto signora, è casa Iscariota? Sì. C'è Giuda? È andata ad una cena. È andata a volta ad una cena, ma l'ammaggia sempre sto Giuda. Ma è l'ultima. Sta a te. Signore, ma i soldi? Ma non ti anche spicci, ma questo qua sicuramente vi aiuterà. Signore, ma è per le donne? Anche questo è per le donne, signore. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.